Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Mario Biondo, il cameraman palermitano scomparso a Madrid il 30 maggio 2013. E le critiche riguardo al documentario Le ultime ore di Mario Biondo, prodotto da Netflix, rimane stabile nella top 10 in Italia e in Spagna, non puoi chiamarlo documentario se segui una sola direzione, ha affermato la madre di Mario in una recente intervista. Un documentario dovrebbe narrare i fatti e includere anche le indagini svolte in Italia. Non vengono intervistati nella polizia né il medico legale che è intervenuto sulla scena. Santina, la mamma, ha raccontato di essere stata contattata ad agosto da una società che le propose di realizzare un documentario, visibile in 200 paesi. Pensavo che avrebbero almeno raccontato i fatti, sia dalla prospettiva spagnola che italiana, ha aggiunto. Dopo aver inviato documenti sensibili e perizie di parte, ha scoperto che dietro The Voice Village c'era Marguera Film. La scoperta è avvenuta grazie a un noto criminalista, che ha notato che il biglietto aereo da Barcellona a Madrid era stato pagato proprio da Marguera Film. Non avrei mai acconsentito sapendo chi c'era dietro, ha affermato la mamma. Mio figlio non si è suicidato e continuerò a lottare per la verità e chi è stato deve confessare dicendo, sono stato io. E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di mamma Santina? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.